Se stai avendo problemi riguardo allo schermo che è capovolto, quindi è in un verticale oppure tutto rovesciato, è possibile risolvere il problema in due metodi. O andiamo direttamente sul pannello di controllo di NVIDIA che trovi qua sotto, tasto destro su NVIDIA e qua pannello di controllo NVIDIA. Se no lo scarichi direttamente sul Microsoft Store, scrivi qua sopra NVIDIA, pannello, eccolo qua, NVIDIA control panel. Quindi scarichi e installi così questo pannello. Vai direttamente sul pannello di controllo di NVIDIA e qui c'è scritto ruota schermo. Selezionare l'orientamento o lo metti orizzontale, verticale, quindi se hai avuto questo problema metti su orizzontale e tu uscirà proprio come lo sto registrando io. Se no tasto destro su desktop, impostazioni schermo. Orientamento dello schermo, orizzontale, verticale, orizzontale, capovolto, verticale, capovolto. Quindi faccio verticale ed eccolo qua. Quindi faccio ripristina. E lo metto di nuovo orizzontale. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Grazie a tutti